Mi chiamo Nevio Tomasini, sono nato a Trieste nel 1956, attorno ai 17-18 anni sono entrato in contatto con il gruppo anarchico Germinal. Questo mi ha permesso di approfondire delle caratteristiche caratteriali che evidentemente avevo dalla nascita, in particolare un'insofferenza rispetto al servizio militare e quindi ho cominciato a frequentare il gruppo non in modo assiduo come altri compagni, in modo abbastanza episodico, guadagnandomi così il soprannome di simpatizzante tiepido. Bene, oltre a fare delle attività pratiche, manifestazioni e quant'altro, ricordo che si leggeva molto e fra le cose che si leggevano in quegli anni un testo era sicuramente Kropotkin con il suo libro sul lavoro intellettuale, il lavoro manuale che completa l'uomo in questo modo. Per cui quando arriviamo al convegno di Venezia del 1984 ben venga l'occasione di abbandonare i libri per un attimo e darsi una mano, darsi una smossa per partecipare all'organizzazione dell'evento che come potete immaginare essendo fatto organizzato da anarchici non avendo mezzi economici era del tutto autogestito quindi si trattava sia il discorso dei viveri, della sistemazione per dormire e di quant'altro insomma. In particolare io e il mio amico Alessandro Paschini ricordo che siamo stati impiegati nel tirare su il tendone che doveva ospitare la manifestazione principale. Bene, in quell'occasione ho avuto la fortuna di conoscere un importante anarchico americano Murray Butchin e ho avuto la possibilità anche di conoscerlo meglio in quanto l'ospitato nella mia abitazione di Trieste e all'epoca si leggeva il suo testo che poi è rimasto una pietra migliare, l'ecologia delle libertà, che dava un'idea anarchica rispetto alla problematica ecologica che in quegli anni cominciava ad affiorare da un decennio non di più. Effettivamente eravamo un po' in anticipo sui tempi e vedo con piacere che la società attuale comunque rispetto a quella di quell'epoca è molto più consapevole di problemi che purtroppo ahimè sono talmente talmente pressanti per cui io personalmente non sono tanto ottimista. Però in ogni caso questa esperienza mi è servita per chiarire a me stesso il mio carattere, chi sono, cosa voglio della vita e se non sono riuscito a modificare la società nel modo desiderato per lo meno mi ha permesso di restare in pace con me stesso e con le persone che conosco.